Musica Allora abbiamo parlato di investimenti, parliamo allora di ricchezza, perché cresce quella delle famiglie italiane che risulta otto volte superiore al reddito disponibile, il mattone anche se in calo resta comunque l'investimento principale, crescono anche le attività finanziarie. Ci dice tutto Cristina Raschio. Torna a crescere la ricchezza delle famiglie italiane che a fine 2017 dice l'ultimo rapporto congiunto della Banca d'Italia dell'Istat è aumentata di un punto percentuale rispetto all'anno precedente attestandosi a ben 9.743 miliardi di euro, oltre otto volte il reddito disponibile. Il dato rileva l'indagine dei due istituti che si appella ai dati Ocse e tra i più alti tre paesi big come Canada, Francia, Regno Unito e addirittura Germania. Il risultato dello studio che potrebbe far pensare a un reale miglioramento delle condizioni finanziarie degli italiani fotografa tuttavia uno spaccato economico-sociale molto più complesso, su quale pesa il ristagno ventennale dei redditi delle famiglie italiane dovuto a una crisi mai del tutto risolta. Anche se oggi rende di meno, lo zoccolo duro degli investimenti, come da tradizione, resta il mattone, con un valore di oltre 5.200 miliardi, circa la metà della ricchezza lorda in mano alle famiglie italiane. La crisi ha però modificato le abitudini di investimento che rispetto al 2016 in parte si sono spostate verso le attività finanziarie, in parte sono rimaste ferme con i risparmi sui conti correnti. Parliamo in tutto di oltre 4.300 miliardi, resta invece basso, rispetto al redditi, quello degli altri paesi, l'indebitamento delle famiglie, pari a 926 miliardi di euro, a differenza di quello dello Stato. Allora, tanti spunti che rivolgo al nostro ospite questo pomeriggio, Gian Battista Baccarini, presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Allora, appunto, dicevamo che queste notizie che ascoltavamo nel servizio confermano i dati del report che avete presentato sull'immobiliare urbano con il battone che anche se in calo resta è il principale investimento. Insomma, è aumentato, l'avete rilevato? Assolutamente sì, è aumentata la domanda di abitazione, è aumentato il numero delle compravendite, in questo è il quinto anno consecutivo che aumentano il numero delle compravendite e c'è tanta voglia di casa. Questo sicuramente sì, teniamo conto che il 78% degli italiani sono proprietari dell'abitazione principale. Il settore casa è da sempre un settore che stimola tutta una serie di scelte virtuose, educa il sacrificio, sottolinea una serie di importanti scelte per la vita di tutti noi e dei nostri figli. Quindi un segmento che da sempre ha un valore, diciamo, a livello sociale unico al mondo, quello appunto italiano. Chiaro che però i valori di mercato continuano a crescere, questo è già ormai l'ottavo anno consecutivo che sono in calo e questo è preoccupante. Secondo noi il motivo è molto semplice, c'è un'offerta troppo ampia rispetto alla domanda, significa che abbiamo un patrimonio immobiliare poco attrattivo e questo è dovuto sostanzialmente a una reddittività incerta, dettata da una fiscalità eccessivamente elevata e soprattutto complessa, confusa. Quindi secondo noi sarebbe molto importante che l'Italia, quindi il legislatore, il governo, iniziasse a prendere in seria considerazione un piano nazionale sull'immobiliare che fosse incentrato su una riforma organica, strutturale della fiscalità, prevedendone una riduzione effettiva e un riordino della stessa. Questo si potrebbe dare una reddittività certa e riconoscibile all'investitore che negli ultimi anni è venuto meno. Allora sul territorio, questi dati, stavamo vedendo il cartello con i dati che avete preparato voi, lo possiamo rivedere. Ecco qui, domanda delle abitazioni più 20%, ci diceva che le compravendite aumentano, i prezzi che continuano a scendere tranne che a Milano. Quindi c'è una qualche comunque omogeneità sul territorio a parte la situazione di Milano, i dati sono omogenei? Assolutamente sì, perché la media nazionale è quella di almeno 2,5%, siamo l'unico dei 28 paesi dell'Unione Europea in cui i valori di mercato continuano a scendere e questo dice tante cose. È chiaro che nello stesso tempo ci sono alcune città come Milano che corre un po' da sé, corre un po' da sola in quanto è stato fatto a seguito dell'Expo 2015 un piano di rigenerazione urbana che è da esempio, deve essere da esempio un po' per tutte le città, che ha comportato una serie di investimenti e soprattutto ha attuato una visione integrata delle politiche urbanistiche, ovvero non solo comprendere il comparto della casa ma anche della tutela dell'ambiente, della sicurezza, dei trasporti, quindi un piano che ha consentito questa città di essere nuovamente attrattiva si parla di 10 miliardi di investimenti fra poco diciamo in questa città ma poi corrono in segno più anche altre città come Bologna, Napoli, anche Firenze e invece altre città che non hanno ancora attuato questa strategia non sono ancora indietro purtroppo. Voi segnalavate anche un miglioramento per quello che riguarda l'efficienza energetica, lo possiamo vedere anche nel secondo cartello cosa avete rilevato? Noi abbiamo rilevato che sempre più cittadini comprano immobili nelle prime tre classi energetiche cioè A più A e B, più 6% e c'è un meno 10% invece di coloro che acquistano immobili nelle ultime quattro classi energetiche quindi c'è una maggiore attenzione diciamo al risparmio energetico, alla riqualificazione urbana, all'efficientamento con minori costi per il cittadino ma anche un impatto positivo per la tutela dell'ambiente e quindi per l'intera comunità. Ecco vogliamo spiegare che caratteristiche hanno questi immobili così per capire? Ma questi immobili diciamo devono avere delle caratteristiche che consentono diciamo così un risparmio energetico quindi hanno una tipologia di infissi piuttosto che un riscaldamento diciamo a pavimento piuttosto che delle caratteristiche quindi sia impiantistiche sia di costruzione quindi il cappotto piuttosto che una coibentazione del tetto, cioè tutta una serie di caratteristiche costruttive che consentono diciamo di avere un risparmio effettivo sui costi e di impattare meno come dicevo prima nell'ambiente quindi di fare e di produrre meno inquinamento e questo con un beneficio di ripeto per l'intera collettività. Ci sono delle tipologie di appartamento nel residenziale oppure anche il non residenziale? Quali sono le richieste maggiori? Ma allora le richieste sono sempre nel residenziale. Un dato anche interessante è che c'è un più 12% degli immobili oggetto di ristrutturazione cioè quindi immobili che grazie agli incentivi fiscali che sono presenti, che sono stati rinnovati ecco danno la possibilità di recuperare dei denari. Tra l'altro quello che secondo me sarebbe importante che il governo facesse è la stabilizzazione di questi incentivi fiscali perché si parla di ecobonus, di sisma bonus, di bonus verde tutte cose molto positive però ogni anno non si sa se vengono reinserite per l'anno successivo e questo non consente una giusta pianificazione per tutti noi, per tutti coloro che vogliono appunto acquistare un immobile per ristrutturarlo, efficientarlo come dicevo con una positività per tutti. E poi altre valutazioni che avete fatto nel vostro report? Abbiamo parlato delle zone, abbiamo parlato delle città più richieste? Ma c'è un dato secondo me molto interessante che c'è un più 20% dei cittadini che decidono di acquistare immobili tramite l'ausilio dei servizi di un agente immobiliare professionale questo testimonia come il valore casa, del settore casa come dicevamo prima l'importanza di un momento così delicato come quello di decidere di acquistare e di investire denari e molto spesso fare dei finanziamenti quindi ipotecare un periodo della propria vita per questo tipo di investimento necessita del supporto di un professionista appunto che li assista e quindi gli dia tutti quei servizi di consulenza e assistenza e a questo proposito la nostra federazione ha ideato un modello che si chiama Una FIAID che va esattamente in questa direzione. Ecco noi abbiamo parlato spesso anche nella nostra trasmissione proprio di educazione finanziaria e quindi anche appunto delle indicazioni per l'importanza dell'acquisto della prima casa allora che genere di consigli si possono dare a chi si accinge anche appunto a comprare casa? Ma quando si decide di comprare casa sicuramente è molto importante come dicevamo affidarsi a una figura professionale che gli dia quei servizi reali, concreti di assistenza e consulenza ma non a parole attraverso una metodologia operativa di lavoro che prevede nell'ipotesi che dicevo prima del modello Una FIAID che è un modello professionale di riferimento sulla scia della prassi di riferimento 40 2018 che è una prassi che è stata pubblicata dall'ente nazionale Normazione e che prevede le abilità, competenze e conoscenze dell'agente immobiliare professionale questo comporta una raccolta documentale cioè quindi la possibilità e l'opportunità e il dovere secondo noi dell'agente immobiliare di immettere sul mercato gli immobili preventivamente controllati e a un prezzo congruo questo eviterà tutta una serie di conseguenze a fianco a questo c'è l'aspetto finanziario che è altrettanto importante perché chi compra a casa il 70% accedono a un finanziamento, accedono a un mutuo e quindi è molto importante affiancarsi a un consulente del credito che dia tutte quelle opportunità e quei consigli e quell'assistenza affinché il finanziamento sia adeguato alle proprie possibilità Grazie allora Presidente Baccherini per essere stato con noi per averci aiutato anche con questa lettura Grazie ancora